Si è svolta ieri nella splendida cornice del parco Mario Cervo con una vista sul centro di Olbia la decima edizione del premio discografico Mario Cervo. La serata è stata dedicata al noto speaker radiofonico Tomi Rossi, recentemente scomparso e che per anni ha sposato e preso parte in numerosi progetti dell'archivio Cervo. Una giuria composta da esperti nel settore della musica ha valutato e premiato sei artisti che si sono distinti nel panorama musicale, ognuno con le proprie particolarità. Al centro la passione per il suono e la cultura sarda, con richiami all'elettronica e alla musica contemporanea. Con entusiasmo e grinta il palco è stato diviso tra Stefania Secci Rosa, Saram, Nanni Gaias, Matteo Leone, Daniela Pes e dal maestro di Launeddas, Luigi Lai, che all'età di 92 anni ha incantato il pubblico presente con un vasto repertorio di racconti e musica. A lui è andato il premio disco storico, mentre tutti i premi sono stati realizzati e personalizzati dall'artista Venceslao Magia. Siamo qui per la decima edizione del premio discografico Mario Cervo, che premia i migliori cinque dischi sardi usciti nell'anno precedente. Oltre ai cinque dischi viene premiato un disco storico. Anche quest'anno si conferma una varietà incredibile di musica proposta dagli artisti sardi. Purtroppo prima di questa edizione ci è mancato il nostro collaboratore storico, che è stato per tutti questi dieci anni Tomi Rossi. A lui è dedicata questa serata, perché senza di lui non avremmo probabilmente conosciuto tutti i musicisti che sono saliti sul palco nel corso di questi dieci anni. Grazie a Tomi.